Sicuramente è stata una settimana molto prolifica dal punto di vista dei risultati, però dire che ci siamo tirati fuori, il campionato è ancora lungo, c'è strada da fare, quindi sicuramente dobbiamo continuare. Sicuramente due vittorie in casa vi danno morale? Certamente, soprattutto con dei scontri diretti, con delle concorrenti che per lo stesso nostro obiettivo, sicuramente sono delle vittorie importanti. Questa Santa Masa in casa c'è un ritmo da playoff? Un ritmo da playoff, sicuramente in casa noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo, con la speranza di sbloccarci anche in trasferta, per poter far sì che la squadra possa avere un pochettino una continuità. No, perlomeno noi viviamo la giornata, domenica andiamo a sorrendere, sappiamo il valore dell'avversario, però noi comunque andremo a giocarcela, poi avremo l'ultima con la Masa Lubrense, dopodiché chiudiamo il girone di andate con la speranza di ottenere il massimo risultato, come dicevamo prima, perché in casa comunque è importante ottenere il risultato pieno.